amici bentornati sul canale 9 mila giri elaborazioni auto sportive oggi voglio presentarmi una macchina che secondo noi è una macchina molto interessante non è la prima che abbiamo a disposizione è una bmw una m2 40 la serie l'ultima serie la g 87 una macchina veramente molto interessante perché un 6 cilindri in linea turbo 3000 di cilindrata attrazione integrale è una macchina congeniata veramente non dico da pista però con veleità decisamente sportive mi fa venire in mente la rs3 che abbiamo fatto vedere un po di tempo fa cioè macchine che sono state progettate già con un'ottica assolutamente sportiva ad esempio in questo caso la distribuzione dei pesi è quasi perfettamente 50 50 quindi a livello di direzionalità di guida è assolutamente perfetta con una distribuzione dei pesi di questo tipo questa monta il cambio steptronica 8 rapporti di ultima generazione e soprattutto quello che la caratterizza in maniera direi decisa sono le prestazioni perché diciamo arriva 250 all'ora autolimitati fa uno 0 100 in 4 secondi e 3 perché parte da una cavalleria di 374 cavalli con circa 500 newton metri di coppia quindi è una macchina veramente possente pesa mi sembra 1620 1630 chili quindi il rapporto peso potenza la decelunga su quello che può fare questa macchina diciamo che come concept è diciamo che ha mutuato tanto dalla serie 4 m l'unica critica che si potrebbe fare a questa macchina che essendo una serie 2 quindi dovrebbe essere un pochino più compatta è una macchina viceversa abbastanza come dire massiccia anche come dimensioni non è una macchina piccola se vogliamo grosso modo può avere le dimensioni leggermente più piccole rispetto a una serie 3 se la vogliamo vedere per il resto direi che è una macchina tecnologicamente all'altezza della fama e bmw in questo caso il cliente ripeto macchina molto molto recente ci ha chiesto di fare due sostanzialmente due upgrade il primo riguarda il motore quindi come abbiamo già spiegato variate volte essendo una macchina nuova ancora in garanzia e a maggior ragione che essendo una macchina particolare anche abbastanza costosa e delicata se vogliamo più che delicata complessa nel suo insieme il discorso del motore cioè della della rimappatura della centralina ovviamente l'abbiamo gestito tramite la centralina a seleto una centralina a seleto che è già stata installata da Mirko adesso qua è buio comunque si vede la centralina esattamente qui fascettata nel momento in cui il cliente va in assistenza stacca la fascetta stacca la centralina attraverso quel connettore mette il tappo di chiusura e nasconde il tutto e a qualunque diagnosi a qualunque controllo non risulta assolutamente nulla nella centralina principale in questo caso tante volte ci avete chiesto ma perché non fate vedere le curve di coppia questa volta vi accontentiamo qui c'è una stampata di quello che sono i risultati ottenuti come abbiamo detto prima il valore originale di cavalli sono 374 cavalli a 500 nm di coppia attraverso la centralina che mi ha montato siamo arrivati a 429 cavalli con 590 nm di coppia quindi abbiamo avuto un incremento di ben 55 cavalli e 90 nm di coppia bisogna dire che questi valori qui si ottengono con benzina a 100 ottani quindi questi valori qua con una benzina normale diciamo calano più o meno del 5 7 per cento quindi se con la 100 ottani si guadagnano 55 cavalli con una benzina normale arriviamo a 46 47 cavalli quindi la differenza è data appunto dalla benzina più ossigenata che dà appunto con una combustione migliore che dà appunto questo genere risultati queste sono le curve di coppia e potenza che potete vedere sia prima che dopo le curve tratteggiate sono di serie coppia e potenza e le curve piene sono quelle con la centralina quindi direi un risultato assolutamente di tutto rispetto per una macchina che già di per sé partiva con una cavalleria molto importante quindi aver raggiunto e superato e essere arrivati quasi a 430 cavalli direi che è un risultato assolutamente incommiabile ma al di là di quello che è il risultato della coppia e della potenza che il cliente non ha nessun tipo di preoccupazione né a livello di affidabilità meccanica né soprattutto come tante volte purtroppo capita a livello di poter perdere la garanzia perché per la garanzia di questa macchina è sicuramente una cosa da evitare in una maniera più assoluta come motore ci siamo limitati a questo perché altre cose avrebbero come come dire se non il filtro dell'aria o cose del genere avrebbero inficiato il discorso della garanzia quindi siamo limitati solo esclusivamente al discorso motore prima di passare all'altro tipo di intervento volevo mi ero dimenticato prima volevo farmi notare una chicca di questa macchina è la parte frontale che si chiama doppio rene quindi è questa questa doppia presa d'aria che caratterizza le bmw in questo caso su questa vettura ci sono queste alette qua che si aprono e si chiudono a seconda di un sensore di temperatura dell'aria per raffreddare in maniera maggiore o minore per buttare dentro più o meno aria a seconda delle condizioni di temperatura esterna ripeto è una piccola cosa però la dice lunga sul fatto che i tecnici bmw hanno guardato anche il come si suol dire il pelo nell'uovo il dettaglio mai visto una cosa del genere quindi motore l'abbiamo descritto l'altra cosa che ci ha chiesto il cliente perché andrà qualche volta in pista e quindi ha cominciato a mettere le mani sull'impianto frenante per il momento impianto frenante di serie m tecniche con dischi molto generosi un disco del genere sicuramente un disco da 330 340 senz'altro quello che ci ha chiesto il cliente è mantenendo il disco di serie che è di buona qualità cambiare le pastiglie perché una delle pecche forse era la pastiglia di serie che andava come dire andava un po lunga spesso andava in fading e quindi abbiamo preferito optare per il momento con quattro pastiglie sia davanti che dietro abc mescola gialla quindi mescola gialla significa che possono accoppiarsi anche al disco di serie noi la copiamo al dischi di serie o eventualmente la soluzione ottimale cambiare anche il disco cambiare il disco ma siccome questo disco qua è nuovo di pacca perché non ha neanche uno scalino proprio è veramente nuovo di pacca abbiamo suggerito al cliente di iniziare col discorso pastiglie e vedere come si trova al primo al prossimo cambio cambieremo anche i dischi questo per quanto riguarda l'anteriore il stesso dicasi per il posteriore anche in questo caso adesso purtroppo c'è la razza che copre comunque anche in questo caso si intravede la pastiglia gialla e il cliente doveva chiaramente fare un pochino di rodaggio per fare in modo che i due materiali si coprino però direi che il risultato diciamo che con questo sistema qua affatica meno l'impianto è chiaro che come in tutte le cose la soluzione ottimale sarebbe stata quella di cambiare dischi e pastiglie al prossimo cambio come abbiamo detto vedremo di trovare la quadra anche su questo quindi per il momento sono due lavori diciamo se vogliamo non eccessivamente invasivi la macchina è molto particolare il cliente segue un po la nostra filosofia cioè di fare i lavori un pochino a step per apprezzare i vari cambiamenti è inutile cominciare a fare tutto cioè che fare l'aspirazione lo scarico la turbina dopo alla fine uno ha un beneficio ma non riesce a capire quali sono le cose che rendono di più e quelle che rendono di meno quindi per il momento abbiamo fatto poco ma fatto bene io direi che anche per questa puntata è tutto vi invitiamo a consultare il sito www.9milagiri.it all'interno del quale troverete oltre 350 schede vetture troverete chiaramente anche il video e la scheda di questa m2 40 di bmw è il marchio dove ce ne sono più di tutte in assoluto ce ne sono quasi 300 se non mi ricordo male se avete bisogno di qualunque consiglio qualunque suggerimento anche chiamami per un consulto io sono sempre in sede allo 027383175 la cosa importante è che cliccate sulla campanella qua sotto e vi iscriviate al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto ciao